Buongiorno, buon sabato 23 maggio. Mi sono svegliato questa mattina con alcuni pensieri che poi naturalmente si trasformano a mano a mano, che dispiegano i loro contenuti e il senso del loro dire, perché i pensieri dicono, siamo noi che diciamo e produciamo i pensieri, i pensieri ci vengono. Ebbene, io penso siano generati dalle relazioni che incontriamo nel corso di una giornata, dalla memoria di ciò che abbiamo conosciuto, dalle speranze che coltiviamo quotidianamente relativamente al futuro. E questi pensieri poi noi siamo chiamati a parteciparli con noi stessi e con il prossimo. Questa per me è la dimensione della meditazione e della riflessione. Non sono atti egocentrici, tutt'altro. La meditazione nasce come anche tecnica per andare oltre il nostro io, per incontrare il tutto, la misteriosità del tutto, l'essere. Non come qualcosa di intimo che sta nel nostro cuoricino, ma come una dimensione che, ripeto, resta profondamente misteriosa e che, in qualche maniera, dovrebbe essere il luogo nel quale cerchiamo di inoltrarci per comprendere ciò che sentiamo stia accadendo, non ciò che sta realmente accadendo, rispetto al quale non abbiamo nessuna possibilità di appropriazione percettiva. Cioè, non è che noi possiamo possedere la realtà. La possiamo soltanto percepire. E non la possiamo neppure inventare. Quella c'è in tutta la sua pienezza ed è interessante perché ognuno di noi la percepisce in maniera diversa. Da qui nasce naturalmente la difficoltà di metterci in relazione con il prossimo. Perché rispetto alla realtà che condividiamo, ognuno di noi ha una visione diversa. E quando parlo della realtà non mi riferisco soltanto alla natura, agli alberi, ai fiumi, ai laghi, al cielo, agli oggetti materiali che scandiscono la nostra vita quotidiana. Mi riferisco anche al modo nel quale noi ci disponiamo rispetto a questioni che consideriamo molto intime, ma che in realtà assumono sempre una dimensione relazionale, collettiva. Penso al piacere, al dolore, alle emozioni, ai sentimenti, alla soddisfazione dei bisogni, alla percezione di aver soddisfatto i nostri bisogni, ai desideri. Ebbene, tutta questa parte che consideriamo molto soggettiva e intima della vita, perché così ci hanno educato, in particolare per quanto riguarda emozioni, sentimenti e desideri, noi li collochiamo in qualcosa di profondamente immateriale, possiamo anche chiamarlo spirituale, psicologico, mentale, e lo sottraiamo totalmente alla dinamica concreta della relazione. Naturalmente i conflitti e le disarmonie che si instaurano tra di noi, esseri umani, nella dimensione affettiva, emozionale, sentimentale e desiderante, costituiscono sicuramente la caratterizzazione della qualità della nostra vita. Cioè quanto noi siamo gioiosamente presenti, disperatamente presenti, tristi, felici, capaci di vivere la dimensione del piacere, o addirittura vivere una condizione umana che è caratterizzata da una assenza di piacere. Non è un'anoressia del cibo necessariamente, ma può anche esserlo. È un'anoressia della dimensione, della condivisione del piacere, che sempre e comunque è caratterizzato dalla dimensione relazionale. Sia che abiti la nostra immaginazione, sia che abiti la nostra fisicità che incontra un'altra fisicità. Questi pensieri mi sono venuti perché in questo tempo di confinamento, di esaltazione della soggettività e della protezione individuale con molte contraddizioni, pensate alla corbelleria di andare al ristorante con la definizione della distanza di sicurezza gli uni dagli altri, subordinata al fatto che si sia congiunti o meno, parenti, appartenenti alla stessa famiglia. È una corbelleria per il semplice motivo che la famiglia non è una entità simbiotica, non è che un sistema fusionale nel quale le singole persone diventano una unità inscindibile. Dentro una famiglia c'è un insieme di soggetti che vivono la loro autonomia, che incontrano altre persone, che escono, rientrano, che stabiliscono le relazioni. Nel senso che la famiglia, interpretata così, è una modalità che oscilla tra il moralistico e la scemenza. Ma attenzione, perché questo richiamo a una coesione relativa sul piano immaginario, ma purtroppo anche reale, a una famiglia mononucleare, cioè costituito dai due soggetti che hanno stabilito un patto tra di loro per una convivenza civile, formalizzata o no, non ha nessuna importanza, e che magari hanno anche procreato e vivono nella funzione genitoriale di crescita delle persone, ma potrebbe anche essere semplicemente una coppia. Alla quella immagine della famiglia si sostanzia poi in una chiusura, in un fortino assediato, che questa realtà che stiamo vivendo, di disseminazione della paura e del panico, mette in evidenza come sia una rappresentazione che è funzionale a qualcosa di molto oscuro e che in qualche modo cerca di sedare le contraddizioni che sono piuttosto evidenti, non solo sul piano economico, ma anche sul modo di vivere la realtà affettiva e del piacere e del desiderio in un tempo in cui si è esaltato oltre misura la dimensione egocentrica, cioè quella dimensione che non sostanzia solo la dimensione dell'egoismo, dell'isolamento personale quasi autistico, ma che sostanzia tutta la realtà affettiva e emozionale, cioè io posso vivere la dimensione affettiva e emozionale del piacere, del desiderio soltanto se faccio sì che quell'io si sciolga in un sorriso, in una risata, in un pianto, in un grado di soddisfazione che sia congruo al mio stesso esistere. Questo è un modo di rappresentare la realtà che fa sì che noi concentrati sul nostro umbelico siamo incapaci di cogliere l'altro, la radicale diversità di ciascun altro, comprese naturalmente le grandi ingiustizie sociali rispetto alle quali giunti a una età che progressivamente tende alla fine del percorso e magari siamo soddisfatti per avere saputo collezionare o avere avuto la sorte di collezionare una serie di privilegi che le giovani generazioni non potranno avere, penso per esempio alla pensione, poter godere di ammortizzatori sociali che non mettano a rischio la nostra esistenza, ebbene allora noi cosa facciamo? Facciamo un'operazione piuttosto sconcertante, ci chiudiamo dentro il nostro cuoricino, alla nostra intima anima, torniamo al dualismo cartesiano al quale pensiamo che ci sia un'entità appunto spirituale che chiamiamo anima dentro il nostro corpo che poi a un certo punto naturalmente sarà dissipato e però questa anima magari volerà in cielo andrà da qualche parte e ci immaginiamo che questo ci garantisca l'immortalità. Siamo costituiti da queste narrazioni che le riflessioni di oggi mi hanno spinto a rivedere criticamente come l'elemento sostanziale del senso di questa chiusura che paradossalmente rassicura soprattutto le persone che non sono in grado non sono capaci non vogliono costruire relazioni sociali profonde intime non c'è contraddizione tra intimità e relazione sociale ma se non c'è relazione sociale non può esserci neppure intimità autentica e non ci può essere una relazione sociale senza la dimensione intima dell'amore questo facciamo molta fatica a elaborarlo a trasformarlo in azione concreta della nostra vita e soprattutto oggi noi dobbiamo rivisitare criticamente un aspetto molto importante ma lo faremo in maniera più approfondita se i pensieri naturalmente mi aiuteranno non io potrò aiutare i miei pensieri ma sicuramente le persone che incontrerò chi ascolterò potranno fornirmi elementi di elaborazione in grado di approfondire queste cose su un concetto molto importante quello del desiderio questa è una parola che è imperversata in questi anni e ha caratterizzato un'interpretazione di tutte le forme di declinazione dell'umore molto malinconico o triste quelli che ti dicono non ho più niente da desiderare non desidero più nulla non sento più il desiderio rimandando il tutto ad una dinamica che freudianamente verrebbe da interpretare come una dinamica pulsionale cioè non senti nessuna spinta e che in realtà è una paradossale forma estrema di difesa che fa sì che troviamo coesione nella chiusura e soddisfazione altrettanto paradossale nella tristezza e nell'assenza di piacere lì naturalmente si mette a tacere il desiderio come elemento propulsore della vita ma che non dobbiamo cercare nelle nostre dinamiche neuro ormonali neuro recettoriali ma semplicemente nella forza propulsiva della relazione il desiderio non è mera mancanza non è soltanto mancanza o come dice Lacan in parte anche giustamente che il desiderio si infrange nell'atto come se l'agire fosse il controaltare della mancanza vitale che caratterizza il desiderio guardate non è un discorso complesso sta di fatto che se noi entriamo nelle relazioni sociali percettive anche è chiaro che quelle relazioni ci mostreranno quanto sia necessario armonizzare armonizzare con il prossimo la dimensione del desiderio che è uno spiazzamento una necessità di costante negoziazione anche per quanto riguarda la dimensione dei sentimenti e delle emozioni del piacere compreso quello sessuale che perché non sia puro istinto oppure pulsione ha la necessità di avere una integrità tra funzioni cognitive fisiche emozionali e capacità di costruzione del piacere il desiderio è quella capacità di costruire insieme agli altri una esperienza nuova che non è puramente casuale ma che fa del caso la sua necessità il caso irrompe se apriamo le porte se ci ridisponiamo non al distanziamento ma all'apertura il gioco delle mascherine oggi sul piano simbolico ha esattamente questo significato perché non è solo una forma di protezione da un virus sta diventando il luogo simbolico del distanziamento nel confronto del prossimo che incontriamo lì c'è la morte del desiderio naturalmente il desiderio non può eludere la questione del rischio nel senso che potrebbe essere un'esperienza deludente ma se noi viviamo la vita con questa propensione a evitare qualsiasi rischio ebbene abbiamo fatto in modo che a causa del nostro egocentrismo la vita non possa più fluire nella sua essenza naturalmente lo farà essenza di noi buona giornata a tutti di noi